Tars, dammi le coordinate per la NASA, in codice binario. In binario ricevuto, trasmetto dati. Non è un fantasma, è la gravità. Ancora non capisci, Tars. Mi sono portato io qui. Noi siamo qui per comunicare col mondo tridimensionale. Siamo il ponte. Pensavo avessero scelto me. Non hanno scelto me, hanno scelto lei. Per cosa, Cooper? Per salvare il mondo. Tutto questo è una stanza di una bambina, ogni singolo momento. È infinitamente complesso. Loro hanno accesso a tempo e spazio infinito, ma non sono legati a niente. Non possono trovare un posto specifico nel corso del tempo. Non possono comunicare. Per questo sono qui. Troverò un modo per dirlo a Marv, così come ho trovato questo momento. Come, Cooper? Amore, Tars, amore. Come ha detto Brent, il mio legame con Marv è quantificabile. È la chiave. Cosa dobbiamo fare qui? Trovare come dirglielo. L'orologio. L'orologio. Ma certo. Codifichiamo i dati nel movimento della lancetta dei secondi. Tars, traduci i dati in Morse e trasmettimeli. Traduco dati in Morse. E se non fosse mai tornato a prenderlo? Tornerà. Tornerà. Vedo la macchina di Torner. Sta arrivando, Marv. Ok, sto scendendo. Come lo sai? Perché gliel'ho dato io. ricevuto il Morse punto, punto, linea, punto. Punto, punto. Linea, punto. Linea, punto, punto. Punto, 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 punto. è tornato era papà tutto questo tempo era lui, io non lo sapevo nostro padre ci salve non lo sapevo forza Eureka è un classico Eureka Eureka